Ciao ragazzi e ciao ragazzi, ieri finalmente sono riuscita ad andare alla Lidl per comprare alcune delle decorazioni natalizie. Scusate la luce ma sto registrando di notte. Allora, vi mostro subito le cosine che ho trovato. Allora, inizio con mostrarvi questa carta regalo con i pacchi molto carine natalizia. E questa è 5 metri. Musica Poi ho comprato due di queste luci, sono catene luminose a LED a luce bianco. E questo qua è il colore. E queste qui sono con le batterie, non va a corrente ma batterie. E questo è la luce. Poi ho trovato questa decorazione con l'alberetto in legno. molto carina con questi campanellini, molto molto carina. Ho trovato queste mollettine a forma di stella e di alberetto di Natale. Molto bello, colore grigio. Poi queste altre mollettine a forma di alberetto bianco e rosso. Dopo ho comprato anche questi set di washi tape, sono 8 ogni set. Poi ho trovato anche questi set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape. Poi ho trovato anche questi set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape. Poi ho trovato anche questo set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape, sono 8 ogni set di washi tape. Queste erano le cose che sono riuscita a trovare alla Lidl. Spero che vi siano piaciute e fatemi sapere nei commenti se anche voi avete fatto spesa di queste decorazioni natalizie alla Lidl e che cosa avete comprato. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!